Beniamino Donnici è il protagonista e l'autore di questo diario dal titolo Sette giorni, diario dall'isola di San Giulio in dialogo con Madre Canopi. È un diario che rappresenta un lungo percorso anche e soprattutto interiore dell'autore che è psicoterapeuta, è psicologo ma ha anche ricoperto cariche politiche anche importanti fino al Parlamento europeo. Ma con un fatto privato che lo ha scosso fortemente, la morte della madre, ha sentito il bisogno di andare oltre alla vita di tutti i giorni, alla vita quotidiana e trovare quindi un senso più profondo. Quindi sceglie di trascorrere una settimana in questa isola, isola di San Giulio che si trova all'interno del lago Dorta in provincia di Novara in Piemonte. Ed è quindi un simbolo, questi sette giorni che sono la settimana trascorsa dall'autore in questa isola, ovviamente un simbolo che ripercorre i sette giorni della Genesi, i sette giorni della creazione, quasi come fosse lui stesso a creare un nuovo sé, una nuova vita attraverso il dialogo con Madre Canopi che è appunto una delle benedettine che svolgono quindi la propria attività in questa isola, in questo monastero benedettino. Un testo che quindi rappresenta la capacità e insieme anche la necessità di ognuno di voler ritagliarsi un momento con se stessi in cui non c'è più niente, nessuno che ruba il tempo da dedicare alla spiritualità, all'incontro con Dio e all'incontro con se stessi. Quindi un viaggio spirituale raccontato direttamente dalla penna del protagonista che alla fine di questa esperienza proprio decide di mettere nero su bianco questa sua esperienza e la racconta in questo diario Sette giorni, diario dall'isola di San Giulio.